Do il benvenuto a Renato Missaglia, artista e art manager ai 98.000 Green Vision Award. Benvenuto signor Renato. Buongiorno a tutti. Lei è artista e ha collaborato con tanti brand in giro per il mondo, ma soprattutto ha divulgato l'arte in giro per il mondo. Sì, è vero, io ho scelto che la mia attività andasse per cui sono stato esposto al New York, Parigi, Tokyo, Hong Kong. Adesso ci vorrebbe un'intervista molto molto lunga per poter raccontare. Vi dico solamente le ultimissime cose, cioè per le Olimpiadi di Torino 2006 Coca-Cola Mondo ha scelto un artista a rappresentarli, ha scelto me, per cui ho fatto per loro 40 opere. Ultimamente queste qui sono le scarpe, non so se si vedono, potremmo, vale. Fate con Diadora, abbiamo fatto 20 paia di scarpe personalizzate e sono online adesso in asta nel mondo. Sono 20 per cui è ricavato, soprattutto la fondazione Robert Kennedy. Per cui, artista, io faccio le cose per me. Ho realizzato su commissione ritratti e personaggi più importanti, veramente, a partire da Marchionne e Obama. Cioè, veramente una cosa, vabbè, il mio sito è il www.renatomissaglia.it, per cui potete andare, chi è incuriosito, a vedere cosa è successo. Noi andiamo a vedere il suo sito, però lei non se ne deve andare perché ci deve raccontare la Green Vision nelle sue opere o comunque nella dimensione artistica in cui vive. Secondo lei è un valore che il mondo dell'arte sta abbracciando? Ma io lo sto abbracciando da tempo. Ho abbandonato l'olio, l'acrilico e sto usando, cioè la mia tela è diventato un grande video di un computer, sul quale disegno, quindi non inquino, consumo un po' di corrente, ma un minimo, e poi li realizzo con un aerografo, però con colori anche quelli non inquinanti. Per cui, quando gli organizzatori mi hanno chiesto, ti interesserebbe di partecipare, c'è questa opportunità? Volentieri, insomma. Benissimo, allora, Renato Missaglia, grazie di essere intervenuto e tanti auguri per il suo futuro. Buongiorno.